Mercoledì sera, Vibo, come ci stiamo preparando? Bene, molto bene. Siamo ridici di una partita, di una sconfitta con Modena, comunque una partita che ha dimostrato i nostri progressi, i nostri passi avanti, in un percorso che ci vuole ancora protagonisti in questo campionato. Mercoledì abbiamo necessità di portare a casa una vittoria e ci stiamo preparando al meglio per questo. La necessità di preparare bene questa partita in virtù anche della Coppa? In virtù della Coppa, è una partita che determina il nostro avversario nei quarti di finale e anche il nostro ranking alla fine del giro in andata, per cui è una partita a cui teniamo non solo per risultato ma anche perché ci assegnerà l'avversario nei quarti di finale.